buongiorno a tutti e grazie per essere con noi nonostante il tempo nonostante luggia di questa settimana per un appuntamento che davvero non vedo l'ora di vivere insieme a voi parleremo infatti e il contenuto abbiamo tenuto un po tra noi fino all'ultimo momento di social emotional learning che è una dicitura abbastanza nuova anche per noi che ogni tanto si sente con la cronimo cell e ne parleremo in particolar modo contestualizzata rispetto a quello che è il mondo di google for education e dei chromebook quindi come prestare attenzione anche all'aspetto emotivo della didattica anche grazie agli strumenti che google for education e la g suite ci mettono a disposizione non ve lo spiegherò io però ve lo spiegheranno gli ospiti di oggi che a breve vi presento prima di lasciare loro la parola però vi ricordo che il webinar insomma è caratterizzato non solo dalla parte video non solo dalle voci ma anche da delle slide che riceverete tra circa un paio di giorni così come se ci state seguendo in questo momento riceverete anche l'attestato di partecipazione anche per quello ci voglio un circa un paio di giorni perché siete davvero tanti davvero tanti per invidiarveli ci mettiamo un po vi ringrazio ovviamente di questa presenza ne sono onorata e vi porto i ringraziamenti da parte di tutta campus store vediamo quindi cosa ci aspetta oggi allora scusatemi nella giornata di oggi avremo due volti che per chi ha fatto insomma maker fair con noi è stato in quel grande calderone che è stata l'ultima fiera in digitale ovviamente del 2020 ha già conosciuto se siete appassionati insomma del mondo google e conoscete sicuramente sono infatti debora ruocco e melissa giacosa che oltre ad essere docenti nello stesso istituto comprensivo che è l'istituto comprensivo di valvaratella una nella scuola primaria una nella scuola secondaria di primo grado sono anche appassionatissime del mondo google debora è il certified trainer e e sono anche molto attive devo dire sui social nei vari gruppi in jack italia in particolar modo e poi soprattutto e questo è il nostro fiore all'occhiello sono formatrici campus store academy proprio del nostro ambito di google e g suite for education quindi se fate un corso con noi insomma richiedete un corso su classroom summit o il corso quello da 25 ore bello corposo su tutti gli strumenti di g suite for education sapete che potete anche richiedere esplicitamente di farlo con debora con melissa insomma con tutte e due vediamoci lavoriamo e quindi è assolutamente una cosa un servizio mettiamo a vostra disposizione con loro ci sarà che ormai è un po come il prezzemolo nei nostri appuntamenti del giovedì matteo marco merlo che il nostro uomo google a parlarci un po a fare un po delle aggiunte rispetto a quello alle informazioni alle pillole che ci lascia ormai di frequente ogni settimana sulle novità di google e sulle novità in particolare che ricordo che riguardano il chromebook vi ricordo poi gli appuntamenti della prossima settimana perché ci siamo sbizzarriti io stefano non sapevamo cosa fare quindi abbiamo detto sì dai riempiamo l'agenda di qualsiasi cosa ci venga in mente no abbiamo pensato di visto che le elezioni sono riprese in classe sebbene con dei problemi avevo pensato di darvi insomma un giusto supporto e quindi vi abbiamo preparato una settimana bella ricca di 20 meridiani iniziamo martedì con una sfida che vi lanceremo che speriamo vi terrà occupati anche per tutto il mese di marzo una sfida da proporre alle vostre classi con un premio in palio non vi rivelo troppo in questo momento vi dico solo che i temi centrali del dell'appuntamento in cui appunto vi presenteremo questa possibilità così di gioco e di apprendimento ludico da proporre ai vostri studenti saranno il p greco ovviamente perché ci avviciniamo al p greco dei e il dante di perché ci avviciniamo anche a quello in particolare in quest'anno in cui in quest'anno così importante per dante leghieri poi ci rivediamo mercoledì sempre alle 17 con il terzo ho sbagliato appuntamento di con co di rocchi e quindi vedremo con anna una nuova lezione un nuovo modo di fare lezione anche a distanza comunque di rocchi quindi un lezione di coding principalmente in un ambiente digitale che poi può essere applicato anche a un robot fisico quindi sicuramente interessante mentre per giovedì abbiamo deciso di sbizzarrire ci abbiamo ben tre appuntamenti da proporvi vi presenteremo il nuovissimo kais clan un robot educativo che non fa solo il robot quindi non serve solo diciamo per applicazioni stem o applicazioni relative alla programmazione al coding ma soprattutto è già integrato con degli accessori per la realtà virtuale e aumentata soprattutto e quindi permette di condurre in classe delle esperienze educative davvero complete davvero innovative è la grande novità del 2021 ce lo presenterà a pietro alberti direttamente dal dal nostro innova lab quindi il nostro spazio educativo allestito per l'occasione poi ci sarà un webinar anche con in collaborazione con la scuola 6 che è uno dei partner editoriali appunto con cui lavoriamo che presenterà delle idee di lezione con arduino per la scuola secondaria di primo grado la relatrice sarà la nostra alessia cocco dico nostra perché l'avete già imparata a conoscere se ci seguite siete appassionati di arduino e poi e poi il grande appuntamento visto che siete qui ve l'ho lasciato proprio come dulcis in fondo che è il grande appuntamento di google che ci aspetta giovedì alle 16 con learning with google che sarà disponibile anche in italiano in cui verranno presentate le grandi novità e quest'anno ce ne sono davvero di esplosive che riguardano il mondo google e g suite for education quindi è un appuntamento per le scuole per i docenti per chiunque si occupi di formazione seguitelo ve lo consiglio con il cuore vi ricordo che il webinar di oggi come tutti i nostri webinar è raccolto nel grande calderone che è innovation for education c'è una pagina dedicata ai webinar potete navigarla di modo che se vi siete perso qualcosa ad esempio dei contenuti passati potete andarvelo a rivedere sono sempre gratuiti sempre liberamente fruibili oppure trovate anche gli appuntamenti della prossima settimana quelli appunto che vi ho presentato e vi potete già iscrivere così non vi dimenticate e vi arriva l'avviso quando dovete seguirli oppure li potete seguire in differita sempre tra le risorse utili vi ricordo il sito campustore.it in particolare la sezione band e finanziamenti che so essere vivissime attivissime in questo momento so che è molto navigata ecco ma se avete bisogno appunto rispetto ai bandi finanziamenti di aiuto di supporto di assistenza questi sono riferimenti dei miei colleghi che vi possono aiutare in particolare questo collega che vedrete alla fine che è proprio Matteo vi ricordo poi che siamo presenti in tutta italia con una rete di centri di assistenza di installatori particolari e ultima informazione ormai lo sapete se ci seguite da un po vi ricordo anche che campustore academy formatore accreditato dal ministero quindi trovate i nostri corsi possono essere inseriti anche su sofia possono essere inseriti anche su meppa per l'acquisto da parte della scuola quindi non c'è problema abbiamo un catalogo ricchissimo parte di questo catalogo lo trovate già nella piattaforma www.campustoreacademy.it che la nostra piattaforma per l'e-learning che sta proprio spiccando il volo in questo periodo però in generale partita dal presupposto che abbiamo la fortuna di collaborare con formatori talmente fantastici talmente trasversali come appunto d'abora e melissa che conoscerete meglio oggi se già non le conoscete che veramente possiamo rispondere a tantissime richieste per cui se avete qualche bisogno particolare fateci una domanda scriveteci a formazione chiaccio la campus store punto it e cercheremo di rispondervi come avrete notato appunto essendo ente formatore accreditato anche i nostri certificati sono cambiati un pochino avete questa dicitura nel certificato di partecipazione per cui speriamo che anche questo servizio vi possa aiutare un po di più a giustificare il tempo che ci dedicate per il quale vi siamo sempre molto grati a questo punto non mi resta che lasciare la parola a debora melissa e sentire cosa cosa ci hanno preparato perché devo dire sono a digiuno piuttosto anch'io sui social l'emotional learning e ho bisogno di imparare quindi a voi la parola grazie posso avere anche io l'attestato certo anche io ci terrò allora all'argomento di oggi g6 per education e i chrome io faccio solo una piccola premessa l'anno scorso quando abbiamo stamentati in in dad ci sono stati alcuni alcune difficoltà soprattutto per i bambini a casa no quindi il discorso è che quando ho visto i chromebook che erano ragged quindi indistruttibili che permettevano avere un ecosistema semplice alla portata di mano mi sono sgrillucicati gli occhi perché una debora una delle difficoltà è stata proprio anche quella di aiutare i bambini in remoto già da casa come aiutarli ad evitare che il pallino li mandasse in un altro pallino o a capire come sarà nel sistema cioè questo per noi e quindi l'argomento di oggi sarà proprio questo noi non parliamo nello specifico dei chromebook ma parleremo delle attività che si possono fare e soprattutto social emotional learning a cui ci teniamo tanto allora si condividiamo intanto le nostre slide così vediamo un attimo di che cosa si tratta e condivido intanto no no faccio io tutto tanto vai sì è voluto della slide vai per avanti eccoci chi siamo vabbè ma chi siamo l'ha già detto l'idea lo vuoi ridire voi che arriviamo a visualizzare del praticamente facciamo parte dello stesso comprensivo istituto comprensivo però siamo in due plessi diversi separati di due comuni diversi quindi però riusciamo comunque a lavorare insieme nonostante siamo non fisicamente vicino ecco io sono l'animatrice digitale e forse quando quando mi hanno dato ruolo di animatrice un po confuso perché già cosa giocosa si addice e quindi sono quella un po più l'anima del villaggio mentre libera comunque sono animatrice digitale del mio istituto e debora a parte del team e poi siamo anche amiche colleghe colleghe amiche si diciamo che l'amicizia è nata durante il primo lockdown perché per forza di cose no abbiamo condiviso gioie e dolori però adesso diciamo che siamo qui in veste di formatrici di campus store academy che mi esalta quindi lo ripeto e possiamo cominciare con la nostra attività che vogliamo presentarvi proprio che è perfetta da fare con i chromebook io volevo solo dire che vai allora quando abbiamo pensato a un progetto anzi quando nelle scuole si pensano ai progetti si fa sempre riferimento a che cosa al nostro opt off allora noi siamo io sono a secondaria debora la primaria e uno degli elementi che emerge un progetto è quello della continuità fare in modo che ci sia una continuità tra gli ordini di scuola quindi nella nostra casetta nel nostro mondo in questo caso è proprio la scuola e il top è quello che diciamo riassume quello che è il territorio i suoi bisogni quali sono gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere come istituto e le risorse che abbiamo le risorse sono economiche ma non solo sono anche le risorse umane in realtà le risorse tecnologiche tutto quello che può essere trasformato in energia fondamentalmente valutando quindi cosa qual è il nostro territorio quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere un aspetto che su cui possiamo migliorare e cui prestiamo attenzione nel concetto di inclusione inclusione un po 360 gradi perché si tratta di includere sia chi è in difficoltà ma anche chi invece è un'eccellenza quindi riuscire a fare tutti e due e non sempre facile perché tante volte si rischia di aiutare chi in difficoltà lasciando da parte che ha le potenzialità e diceva abbiamo trovato nel sale e di social emotional learning una risorsa io sono anche life counselor quindi so quanto le emozioni siano fondamentali ma non lo so perché lo dico io già negli anni 80 sono stati fatti degli studi ad oxford in cui delle famiglie sono state analizzate 100 famiglie sono state hanno fatto un esperimento sono state interviste di genitori è stata chiesta la qual è la più loro filosofia genitoriale sono stati osservati i bambini nelle dinamiche di gioco e sono state fatte anche delle rilevazioni fisiologiche no sudorazione battito del corpo battito del cuore insomma sono emersi dei dati gli stessi sono stati confrontati con le stesse famiglie quattro anni dopo e ciò che è emerso che i bambini allenati alle emozioni sono bambini che sono ben voluti dal gruppo vanno anche meglio a scuola quindi tutto questo ci fa riflettere quanto sia importante l'aspetto emotivo anche nell'apprendimento e poi per vivere meglio perché lo scopo è anche che i ragazzi stiano bene che siano realizzati che abbiano autostima attualmente io e debbi stiamo collaborando con il padre trovi italia è una start up quindi di questo specifico non mostreremo le schede però ci sono poi dei link al sito e anche a una pagina con alcune schede esempio e abbiamo trovato una risorsa perché in america in realtà il site c'è già da tanti anni e hanno delle attività proprio strutturate anche finalizzate per situazioni specifiche e sono formati gli insegnanti perché anche l'insegnante deve essere allenato alle emozioni per poter allenare bambini alle emozioni quindi noi stiamo lavorando nei due comprensivi con questa start up anche se negli anni abbiamo un po lavorato con le emozioni ma non mai così proprio strutturato c'erano mai stata un'attività così strutturato e come fare però includere tizzeccaio a fare emergere le emozioni noi abbiamo usato come ambiente la g suite for edu vado vai 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 ci vuole un po di tempo quindi ok l'education come ambiente di condivisione adesso a brevi linee diciamo qual è il percorso cioè come ci siamo noi figurati il percorso ma non è un percorso di una giornata ma un percorso di anni un anno e l'anno successivo cioè noi lo vogliamo strutturare così è una didattica blended cosa significa è una didattica che prevede sia lezioni frontali ma anche lezioni online sincrone e asincrone quindi sono tutte attività che possono essere nel il blending secondo me è la formula migliore perché ti dà tantissime possibilità dove i ragazzi possono in autonomia guardarsi da casa un video rispondere a una domanda fare poi in classe si può fare il confronto se non ci si può vedere in classe ci si vede però su meet quindi in realtà questa formula secondo me è la migliore almeno dall'esperienza per te con i bambini delle medie con i piccini esatto questo voglio dire noi allora nel nostro istituto diciamo che la scuola secondaria di primo grado aveva già usato questo strumento da anni e adesso mi metto nei panni dei genitori io da madre ho vissuto con mio figlio l'approccio a g suite for edu nel nostro istituto e ho visto i vantaggi da studente e da famiglia ok quindi adesso con la possibilità che abbiamo avuto di integrarlo anche alla primaria perché diciamoci la verità quasi tutte le scuole prima del primo lockdown non aveva integrato no non aveva dato tutti gli indirizzi eccetera quindi noi non avevamo classroom prima del lockdown adesso avendo tutti gli strumenti anche noi mi sto rendendo conto sempre di più che è una risorsa da sfruttare quindi vediamo il positivo no in questa situazione comunque negativa e abbiamo visto come anche i bambini comunque la mia classe è una terza primaria e quindi l'anno scorso erano in seconda ho voluto testare questi strumenti con loro e sono andati benissimo i bambini nel senso sono riusciti benissimo con i dispositivi a loro disposizione e alcuni avevano comunque e hanno chiesto a Babbo Natale il Chromebook per colpa della maestra noiosa però sono contenta perché vedo che riescono in autonomia veramente a produrre cose stupende per loro e per me ma infatti diciamo che con i ragazzi quando in classe facciamo attività con il pc con il computer con il Chromebook quello che è loro sono contenti gli piace non so evidentemente è un format che loro sentono vicini è una novità non lo so comunque tutto ciò che per loro è divertimento sicuramente più funzionale che non è una lezione dove si annoia questo penso che lo sappiamo tutti sì oltre al divertimento sai cosa ci vedo anche la interattività proprio il protagonismo loro quindi loro che sono protagonisti del lavoro e che quindi creano e sviluppano delle cose che poi è farina del loro sacco cioè comunque è un frutto del loro lavoro e questo secondo me gli dà molta soddisfazione parlo dei piccoli ma penso anche i grandi no? no no per i grandi guarda io adesso la mia filosofia da un po' di anni è che il protagonista della lezione è l'alunno quindi quasi non faccio io lezioni però è come se io mi sentisi non so ma una guida no so che da qui voglio andare qui però non ci sono io davanti ci sono loro davanti e qui e gli dico andare andare nella direzione non so è un modo è un approccio un pochino diverso loro si sentono anche più partecipi ci sono dei calimenti non dico che sia tutto spianato è semplice però è una modalità che per me è diventata nel tempo comunque più più efficace di altre nello specifico per quanto riguarda l'attività cell quindi noi facciamo separatamente le attività in classe cioè io lavoro con i miei Deborah lavora con i suoi sappiamo che ci sono degli argomenti comuni per quanto riguarda cell trovo quindi tutte le settimane proponiamo schede lei adatte per la primaria io adatte per la secondaria di primo grado e poi la nostra idea è quella di fare questo legame no? questo piccolo cordone tra la primaria e la secondaria in cui si condividono le esperienze e l'idea che mi piacerebbe che vogliamo mettere in alto è quella di tutoraggio cioè i bambini più grandi diventano i tutor di quelli più piccolini li aiutano quando poi anche anche solo nel confronto emotivo perché il primo approccio sarà un mit quindi ci incontreremo ovviamente perché siamo in due plessi diversi che sono sì a 7 km di distanza ma che comunque sono cioè non sarebbe fattibile ma anche in un periodo di normalità non necessariamente nel lockdown anche nella normalità non sarebbe così fattibile prendere andare nell'altro plesso ritornare indietro insomma quindi l'incontro mit è il primo step per un incontro per conoscerci per creare delle attività in condivisione poi l'aspetto del tutoraggio e poi un prodotto finale che abbiamo delle idee ma non sappiamo esattamente quale sarà perché dipenderà da loro dai confronti che faranno perché loro daranno il loro contributo sia piccoli che grandi quindi questi lavori diciamo che quando tu parti con il progetto hai un'idea e poi difficilmente rimane la stessa identica alla fine del lavoro perché comunque grazie al cielo loro danno il loro contributo è proprio questo l'obiettivo no dire se sono protagonisti devono avere voce in capitolo quindi mano a mano usciranno anche delle cose anche degli stimoli per noi docenti a cui daremo daremo credito ovviamente no esatto quindi per questo motivo infatti noi abbiamo anche no messo all'interno di questa presentazione proprio volevamo no far capire come proprio google for education e g suite for education è importante per ed è integrata anche in questa modalità un po sell perché sappiamo no che loro comunque in america sono già molto più avanti di noi in italia ma non è un problema però condividiamo magari adesso se sei d'accordo melissa un piccolo video giusto per far capire a chi ci segue di che cosa stiamo parlando in pratica ok quindi ora vi condivido un attimo questo video grazie 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 bene ci vediamo di inverso grazie abbiamo intanto c'era che rea lo sapono di sicuro chi era la persona che ha presentato questo video per google for education è filomena pizzulli anche lei docente formatrice per campus or academy e vabbè google trainer google innovator leader gigit cioè tante cose tante cose allora quindi questa slide finale sono le risorse che noi abbiamo messo a disposizione ma andiamo nel vivo della didattica quello che facciamo ora è mostrarvi in pratica cosa stiamo facendo col social emotional learning e come l'ambiente comune è l'astro come filomena ci siamo creata appositamente la class non chiamiamo chiamata senti ti amo ci che tenera come se un poete veramente vai su si all'interno di questa classroom abbiamo messo anche questa presentazione che vi presentiamo oggi ovviamente e abbiamo ipotizzato alcune attività quindi la prima attività relativa alla scuola primaria è questa e io sono partita dall'ascolto anche perché proprio settimana questa settimana abbiamo proposto come attività cell trove l'ascolto attivo no è una parte proprio legata a come si ascolta però in questo caso un tipo di ascolto quindi dopo aver fatto magari l'attività strutturata proporrò questo video che ora non vi faccio ascoltare però è un video preso da youtube adatto anche ai bambini ovviamente di questo canale che si chiama emozioni in musica e c'è questo video con questa musica classica molto emozionante e quindi bambino potrà ascoltarla la prima volta magari in classe no la presentazione dell'attività io la pensavo in classe alla limma e poi si può lavorare sempre appunto avendo la smart class no quindi ognuno avrà il proprio dispositivo il proprio chromebook loro potranno accedere alla propria jam board perché lo condivisa su classroom in compiti creando una jam board per ogni alunno quindi ognuno potrà lavorare da solo in questo momento che è un momento privato diciamo e usando gli adesivi oppure usando se hanno il dispositivo con lo schermo touch usando il dito o la penna potranno nella pagina successiva mettere su carta diciamo così su jam le emozioni che hanno vissuto ascoltando questo video possono anche ascoltare il video con la jam board aperta quindi potranno mettere un disegno un'immagine delle parole una frase e poi su questo lavoreremo anche insieme ai compagni della scuola secondaria successivamente scusa io sono capace a mettere l'adesivo e vabbè adesso non è che posso spiegarti tutto ti svelerò il mio segreto no quello lì è praticamente un bitmoji e basta che aveva l'adesivo niente di che allora poi la seconda attività che ho messo sempre in prima attività ho messo qui il compito dove poi i bambini che avranno creato magari un elaborato tipo che può essere appunto un video o un disegno su questo ascolto lo condividerà appunto su classroom e il primo incontro ho creato un evento su meet e l'ho messo già in questo in questa posizione dovete pensare immaginare che su questa classroom ci saremo per ora io e melissa come co docenti e poi ci saranno proprio tutti i ragazzi che fanno parte del progetto quindi due classi diverse di due ordini diversi di due plessi diversi tutti all'interno della stessa classroom ti do la parola per l'attività di secondaria mi guidi e io faccio vedere quello che vuoi allora questa è l'attività che abbiamo iniziato circa due mesi fa allora ho la prima tv faccio una premessa per ora sto facendo tutte queste attività in modalità asincrona nel senso che sono a casa per problemi di salute però ringrazio alla g suite io riesco a essere in contatto con i ragazzi a farli comunque lavorare a mantenere insomma quello che ha un contatto con loro la prima attività è stata quella sulla classe di presentare loro una domanda nel senso ho postato un video che mi aveva colpito molto ed è disismi tratto dal musical the greatest show man e mi è piaciuta tantissimo mi ha esaltato e la propongo ai ragazzi quindi glielo ho fatta ascoltare poi passato il successivo è stato mi dite quali sono le emozioni che avete provato nell'ascolto di questo video alcuni però più erano contenti felici entusiasti qualcuno è anche disgustato perché c'è la donna con con la barba e anche ecco una premessa quando sono queste attività il giudizio va messo da parte perché altrimenti non si sentono più liberi di esprimere di dire quello che sentono non c'è nulla di male il più e poi affrontare in che senso che cosa ti crea disgusto in quello caso specifico e andare a comprendere forse la diversità qualcosa che non è diversa dalla normalità e quindi lavorare anche su questi concetti dopo che ho fatto vedere il video chiesto loro quali sono le emozioni gli ho chiesto di disegnare dove si vengono le mie emozioni quindi dopo che hanno descritto felicità disgusto eccetera bene adesso mi disegnate le emozioni che avete provato poteva essere un disegno astratto piuttosto che concreto certo fare la frazione per loro è difficile ma per me è fondamentale che imparino anche lavorare sui concetti astratte l'uso dei colori colori esprimono le parole rappresentano comunicano l'elemento sul foglio comunica dove lo metto come lo metto una linea spezzata comunica e quindi io ho lavorato su questo aspetto li lascio lavorare prima in autonomia poi dopo quando c'è il confronto allora lavoro sul come e cosa e dopo che hanno disegnato le emozioni ho consegnato loro un altro lavoro hai possibilità di aprire la traduzione del testo quindi ho creato un documento l'ho condiviso con la classe in modalità visualizzazione che non potessero quindi andare a toccare spostare gli elementi però che potessero o commentare o comunque entrare nei link perché è un documento linkabile una sorta è un attesto quindi nella parte iniziale ho raggruppato sinteticamente quali sono le emozioni che hanno provato quindi felicità senso di grandiosità libertà eccetera e nella parte sotto una piccola scansione di step quindi cosa fare quali sono i passi da fare adesso e uno era quello di consegnare nella classe o mi il disegno sulle emozioni di guardare sotto la traduzione che ho messo quindi ho creato due colonne in una ho messo alcuni screenshot fatti del video dall'altra la traduzione in italiano e ho chiesto loro di c'è il link la gemboard perché ho chiesto loro bene entrate nella gemboard e mi descrivete un episodio personale in cui vi siete sentiti esclusi io ho iniziato per primo ho scritto il mio episodio non l'apriamo andiamo facciamo vedere invece un lavoro che hai fatto sotto esatto loro quindi sono entrate hanno raccontato poi ho mostrato gli screenshot e mi è servito utile perché il lavoro successivo sotto quello di ok adesso vi disegni quel tuo episodio particolare astratto concreto in cui tu ti sei sentito escluso quali sono le emozioni che hai provato rabbia tristezza quali erano i pensieri no ne sei uscito fuori c'è stato qualcosa e da lì il passaggio successivo che è servito a me è prendere spunto delle immagini che ho diviso con il viso con loro sul bene adesso anche sul disegno mi inserisce un elemento in più che è il testo quindi una frase perché è importante partendo però dalle immagini che ho condiviso con loro gli ho fatto notare che in questo contesto il testo non è scritto tutto nello stesso dimensione ci sono alcune parole che hanno più peso di glorious più grande no io dire che ha più importanza quella che colpisce l'occhio e non sono nemmeno e sono messe nello spazio in un modo particolare quindi io volevo che lavorassero sulla disposizione degli elementi sul foglio danno importanza più importanza meno importanza seconda della parola dopo che hanno fatto sono questo gli ho chiesto quindi di consegnare il loro lavoro che ci sono i commenti io lavoro sempre su punti di forza e margini di miglioramento qual è la parte su cui batti che va bene l'attifero perché va bene e potenzia questo aspetto invece l'altro in cui bisogna lavorare un po più nel margine di miglioramento questo per loro importante perché se gli dice no guarda 54 non capiscono nel perché e si demoralizzano allora invece ci sono delle regole chiaro rispetto della consegna del foglio che vengano rispettate le regole che sono state in partite foglio alla verticale la tecnica eccetera però poi avrà nello specifico e lì cosa non ha funzionato e su cosa può quindi tranquillamente migliorare perché non è che perché viene una tipica all'inizio ma non si può più fare no si può si può benissimo ma bisogna dirgli con gradi con calma questa cosa qui va migliorata poi gli si dice di migliorare una cosa alla volta non è possibile se ci sono tre cose partiamo dalla fondamentale e poi si passa alle altre altre venti di sì ma anche in confusione invece per gradi si dice cosa può migliorare e poi per concludere non mi ricordo cosa no avevi messo la ma appunto di quando sono stato escluso il disegno che è quello che hai detto adesso che hanno caricato e bon sì sì e poi esatto dicevamo no nell'attività che comunque noi proponiamo ogni settimana più o meno il tema è lo stesso sviluppato in maniera diversa a seconda dell'età dell'alunno poi le attività in classe fatte da noi in modalità sincrona o asincrona e successivamente il confronto e il tutoring quello che farà parte del progetto di continuità anche no e di inclusione quindi questo discorso qui che abbiamo detto che è un arricchimento anche sui discorsi legati all'educazione civica al concetto di diversità cioè ci sono veramente dentro tantissime cose e quindi bisogna solo fare delle scelte alla fine perché non possiamo fare sì ma quando parlavamo di inclusione perché in un progetto di questo tipo sono tutti dentro perché poi tutti dovranno collaborare con piccoli gruppi o in grandi gruppi però anche per fasce di io in genere lavoro per fasce di livello pari perché altrimenti se c'è quello un pochino più succedete nel termine bravo a bravo si intende nello studio quello che è quello che è quello che invece non mi piace tanto studiare non piace leggere si si aggrappa un po no se appende invece quando sono pari si devono dare da fare sia quindi magari con competenze diverse ma poi i ragazzi hanno tutti una competenza a volte purtroppo non emerge ma con questi strumenti e con il cell spesso emergono poi quanti quali sono le loro competenze quali sono le abilità che magari in una lezione tradizionale c'è la scuola sta cambiando quindi un'azione tradizionale magari non emerge purtroppo e anche i ragazzi che cresceranno pensando in una stata in grado di invece sono in grado di ma di fare delle cose per cui sono portati ma che la scuola non ha permesso di dimostrare semplicemente quel insomma questo ambienti a fare delle possibilità per quanto mi riguarda io l'ho in genere lavoro anche quando è successo il fatto su tik tok adesso per prendere un esempio io gli ho fatto la domanda avete saputo cosa ne pensate e ho accolto le loro risposte poi ci sarà il confronto anche su come loro usano le tecnologie perché questo è importante siamo nel se per internet dei nota nel mese sull'utilizzo eccetera quindi io credo che debbano semplicemente essere accompagnati non gli si debba vietare l'utilizzo degli strumenti ma come a un bambino gli si insegna andare nel mondo non è che gli prendi ci vai a bambino ai 5 anni e lo lanci mezzo alla strada mano per mano si accompagna si dice guardi prima destra poi a sinistra quando sei certo conosce nessuno attraversi perché i pericoli sono ovunque anche nella rete quindi riuscire ad accompagnarli è un modo perché poi siano però usando gli strumenti non vietandogli direi che sì ci siamo lisa se vuoi poi grazie mille grazie davvero prima di passare la parola matteo però vi farei una domanda di approfondimento già nel senso che vi ringrazio anche per quest'ultima riflessione che ritengo particolarmente importante in questa settimana che è la settimana in cui si celebra insomma il seifer internet dei che credo che sia un una tematica che se era al centro fino allo scorso anno questo momento è ancora più che ancora più calda e ancora più interessante anche per episodi come quello citato appunto da melissa ma non solo anche nella banalità della quotidianità perché comunque volenti o non enti digitale è entrato nelle nostre nelle nostre case c'era già era già una trasformazione in corso ma sicuramente abbiamo fatto un salto consistente e quello che ci viene insegnato appunto da dal lavoro di ogni giorno ma anche che ci viene detto da dal contesto dal governo dal contesto europeo penso ad esempio alle indicazioni del digicomp edu o similari è il fatto che voi giustamente avete osservato cioè che la competenza digitale il digitale non può più essere escluso anzi ci viene detto la competenza digitale ormai un alfabeto come può essere l'italiano di base come può essere la matematica di base a cui la scuola di cui la scuola deve farsi carico nel trasmettere ai ragazzi appunto non solo una competenza che deve essere tecnica ma come dicevate voi proprio una competenza umana rispetto a questo che è comunque una cosa che non puoi vietare anche perché sennò poi diventa lo strumento proibito che quindi io sarebbe il primo che se fossi ancora studentessa sarei andata a prendere per in quanto preguita una delle otto chiave europee che viene valutata in uscita dalla terza media la competenza digitale sono otto e una delle otto la competenza digitale ma poi ne esiste io mio papà che ha i suoi 75 anni mi chiede mi aiuti a fare questo perché adesso il conto online questo e quest'altro comunque nella vita nel quotidiano aver dimestichezza col digitale aiuta semplicemente che non è chiamato a utilizzare digitale sì sì sono d'accordo però mi chiedo una cosa rispetto a questo voi avete fatto ovviamente un approfondimento molto interessante sul sullo sviluppo emotivo che su cui state lavorando allora vi chiedo quanto ha pesato l'ultimo anno da un punto di vista emotivo in questa scelta di progettazione che avete fatto e quanto pensate sia importante lavorare anche su questo aspetto che in partito che in passato veniva definito quasi soft quasi una cosa trascurabile ecco intendi sul social emotional learning esatto esattamente quanto può aver pesato il quanto possono aver pesato più che altri mesi di lockdown questo tipo da un punto di vista emotivo e sono stati allora io lo parlo per allora lo parlo da punto esperienziale mio da adulta è stato un anno difficile dove però sono emerse tantissime risorse cioè è come insieme la difficoltà emergesse poi nel valore delle capacità che altrimenti non sarebbero emerse però è stata dura poi immagina la solitudine almeno nel mio caso poi io ero anche solo a casa con il mio cane per fortuna e però non è stato semplice dal punto di vista emotivo psicologico quindi immagino anche i ragazzi che sono e sono un'adulta e immagina i ragazzi che invece sono tutta energia sono energia pura che hanno voglia di uscire di confrontarsi di stare con loro coetanei no ma anche il semplice fatto di dover stare sempre con i genitori ma anche per i genitori stessi ma io non so tu sei mamma quindi non si vede si sono stati sono allora noi adesso ci rendiamo conto dopo io essendo la primaria noi siamo stati a casa mai quest'anno solo una settimana purtroppo per una quarantena fiduciaria però ci siamo proprio resi conto adesso no a fine di primo quadrimestre ben tirato un po le somme e ci siamo resi conto che questi bambini comunque fanno vedere quello che hanno vissuto nell'anno passato e quindi io sono ben contenta di aver iniziato a lavorare su questi su questa tematica con queste con questi strumenti proprio perché vedo quanto bisogno ne abbiamo noi e loro perché non è vero che abbiamo perso un anno come tanti dicono io non sono d'accordo con questa frase però è vero che abbiamo perso delle cose quello sì e quindi dobbiamo lavorarci dobbiamo lavorarci ci avremmo dovuto lavorare comunque ma adesso qualche ferita c'è soprattutto su quelle in quelle situazioni fragili già d'impartenza io avevo tante situazioni da fragili in partenza e che durante il primo lockdown comunque avevo il pensiero di dire chissà cosa succede in quelle case in questo momento in cui non puoi uscire di casa e quindi sì ci sono e non dobbiamo nasconderlo e il nostro compito è educativo prima che didattico quindi sì sì si lega tutto è veramente una risorsa stupenda capito vedremo noi non avessimo avuto noi quei limiti quante volte ci incontravamo al giorno cioè io benché fossi sola non ero sola perché ero sempre quindi sentivo il team io debbra poi la nostra paola con la traformatrice campus tour però che adesso è alla secondaria di secondo grado però eravamo il trio quindi 5 di autosoccorso proprio siamo stati un po come come noi ci siamo ingegnati per fare i webinar anche per sentirci un po meno soli insomma dire creiamo una comunità quindi sì nel piccolo nel grande sicuramente il digitale ci ha aiutato a sentirci un po più umani forse però grazie grazie per questo spunto di forte emotività devo dire che normalmente uno magari pensava sono qui a sentir parlare di google a sentir parlare di chromebook invece questo dar spazio alle emozioni credo che sia il grande valore aggiunto di oggi io vi chiederai di rimanere qui collegate così per i saluti finali eventuali domande e passerei nel frattempo la parola a matteo che immagino che abbia scaldato i motori e sia pronto a collegarsi con noi per raccontarci qualche novità grazie ancora ciao ciao a tutti il mio schermo ringrazio debora e melissa per sicuramente gli spunti interessanti e di valore che hanno condiviso con con tutti noi io diciamo farò vedere un po più una parte tecnica vorrei un po calare nel dettaglio un piccolo aspetto dei chromebook dal punto di vista della gestione poi della scuola fondamentalmente ma anche ma anche delle famiglie quindi abbiamo visto tanti aspetti importanti dell'utilizzo di tutto l'ecosistema di g suite for education dei chromebook e adesso vi sto mostrando la console di amministrazione della g suite for education volevo darvi proprio una piccola pillola prima di passare a parlare diciamo brevemente dei chromebook for education di come poi questi dispositivi come diceva come diceva debora all'inizio vi fanno sbarlucicare gli occhi perché perché sono semplicissimi da gestire a differenza di altri di altri dispositivi avendo un ecosistema integrato quindi la nostra g suite for education andiamo nel lato admin andiamo nella sezione dispositivi la sezione dispositivi chrome abbiamo la possibilità di andare a gestire quelli che sono i chromebook appunto della della scuola questo si fa grazie a che cosa ad una licenza che si chiama chrome education upgrade che lega quello che è il il chromebook della scuola al dominio della g suite della scuola quindi qua in alto a destra potete vedere la sezione di upgrade questa è la nostra console di di prova di demo dove giocheriamo allegramente vedete quindi ci sono degli upgrade disponibili in totale in questo caso ne abbiamo 30 quindi questo corrisponderà a diciamo l'acquisto di 30 chromebook con con licenza è importante sapere dove sono perché per poi diciamo collegarli quindi registrarli nel nel dominio scolastico che devo avere disponibili quindi se li avete acquistati da noi con licenza e non vedete perché ci mancano dei dati che vi chiediamo sempre al momento della della consegna quindi dove vedo se ho le licenze disponibili nella sezione upgrade dentro dispositivi chrome vi lascio veramente una pillolina quindi nella sezione dispositivi impostazioni quindi vedete mi ha fatto tra clic fondamentalmente dalla della console di admin io ho la parte di impostazioni non solo di browser e utente quindi le impostazioni che un utente della g suite for education scolastica a in qualsiasi dispositivo quindi legato però al browser chrome nelle impostazioni dispositivo io qui posso andare a fare che cosa andare a gestire da remoto delle impostazioni dei miei dei miei chromebook quindi andando guardate scendo brevemente volevo farvi vedere questa questa sezione qui io qui posso dire che cosa di consentire l'accesso ai miei chromebook solamente a chi ha un elenco di utenti o addirittura al solo dominio scolastico mettendo semplicemente asterisco chiocciola adesso la chiamiamo ic 86 come il mio anno di nascita roma punto ed punto it e quindi quando io accederò al chrome quindi tiro su il coperchio e parte potrò fare accesso solamente se faccio parte dell'ic 86 roma punto ed punto id quindi blocco fondamentalmente l'accesso ad altri utenti posso bloccare la modalità ospite quindi non posso entrare se non sono diciamo autenticato come utente della mia g suite scolastica e quindi tutte le impostazioni che sono state decise dagli amministratori animatori digitali chi gestisce la g suite scolastica si vanno a ripercuotere non si vanno a ripercuotere nella modalità ospite io la limito quindi la tolgo entrerò solamente con i miei account scolastici una cosa interessante diciamo punto di vista tecnico e poi passo diciamo a dare delle slide è che queste impostazioni diciamo queste limitazioni di accesso che non sono delle limitazioni ma io le vedo più come delle delle opportunità di tenere sotto controllo quello che fanno i nostri studenti citavo prima tiktok e social media in generale però l'utilizzo del mio dispositivo può essere anche non solo limitato con le impostazioni della scuola ma posso aggiungere una serie di orari non so dico che dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 17 e 18 lo posso utilizzare solo con account scolastico mentre in altri orari lo posso lasciare libero e quindi utilizzarlo con account gmail.com da cosa nasce questa questa impostazione dal fatto che in tanti paesi nel mondo che adottano g suite for education e chromebook sono i genitori stessi che comprano il dispositivo per per il figlio per l'allunno la scuola magari mette solamente la licenza quindi lo collega al dominio scolastico quindi io genitore sono assolutamente diciamo sicuro che durante l'orario scolastico lo può utilizzare il mio ragazzo con tutte le impostazioni del caso quindi tutto il diciamo il recinto e il giardino protetto della della scuola mentre magari il weekend io genitore con il mio account gmail.com lo posso utilizzare per navigare su sul web per utilizzare applicativi e quant'altro quindi non vedetelo solo come un device scolastico ma può essere proprio un device del ragazzo che si utilizza anche anche in famiglia ecco quindi sono ci sono degli esempi virtuosi nel mondo dove appunto viene comprato dal dalla famiglia insieme alla scuola quello che invece volevo presentarvi quindi brevemente è sempre diciamo il concetto di di chromebook of education quindi dispositivi come diceva debora diciamo io li chiamo da da battaglia sono dispositivi resistenti sono dispositivi che posso dare in classe posso metterli nello zaino sono principalmente diciamo nella in education sono dagli 11 ai 14 pollici leggeri con una batteria che dura tantissimo e si avvia in pochi secondi ma la parte importante che sono condivisibili quindi io comando diciamo le impostazioni attraverso l'account della mia di suite scolastica quindi posso entrare io come matteo può entrare debora può entrare melissa ognuno avrà delle impostazioni e degli applicativi che si che si impostano nella console di admin che abbiamo visto prima ma dallo stesso dispositivo in maniera molto molto semplice quello che vi dicevo è la parte importante che diciamo segna lo spartiacco tra un chromebook e un chromebook for education è la licenza perpetua chrome education upgrade cosa significa significa che io posso appunto registrare il mio chromebook nel dominio scolastico e diciamo gestirlo da remoto quindi non devo avere sotto mano i miei i miei chromebook ovviamente in didattica a distanza devono sono stati a casa degli alunni ma io come amministratore posso ad esempio bloccare i dispositivi usati solo nel dominio della scuola avete visto tre clic dominio scolastico e sono a posto e come vi dicevo anche diffondere tutte quelle che sono le impostazioni e le policy di sicurezza quindi posso gestire distribuire e andare a semplificare quello che è il mio la mia gestione dei dispositivi per farvi un esempio adesso di dispositivi che noi abbiamo disponibili in pronta consegna un esempio è il il lenovo chromebook 100 e allora io adesso ce l'ho ce l'ho qui in mano magari lo vedete dalla webcam piccolina i bordi sono rinforzati quindi sono gommati e resistono a delle cadute altezza diciamo 75 centimetri un banco fondamentalmente una cosa importantissima che ci tengo è la tastiera la tastiera che è water resistant spill resistant che resiste quindi al come dire all'acqua non lo posso buttare in un fiume o portarmelo in fondo al mar ma ad esempio per la sanificazione è importante perché io con uno straccio con il classico spruzzino igienizzante passo igienizzo e non devo essere diciamo non aver paura che magari vada dentro e rovini tutti quelli che sono i circuiti all'interno perché appunto è scillate water resistant quindi vi lascio poi chiaramente le la presentazione le slide con i dispositivi che abbiamo disponibili in pronta consegna vedete c'è il lenovo 100 e di seconda generazione o il 14 e questi sono diciamo i due dispositivi che vanno per la maggiore uno come dicevo resistente porta portabile economico e e quindi da da zainetto e da battaglia mentre magari il docente o se si hanno delle esigenze specifiche c'è anche il modello 14 e che ha lo schermo da 14 pollici quindi un pelino più grande ma contiene sempre diciamo ha sempre un design leggero e portatile non è il classico dispositivo pesante che non sta neanche nel banco a volte e quindi anche nello zainetto poi portarlo in giro diventa 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 un peso in più per i ragazzi nelle spalle quindi vi lascio tutto quanto i codici vedete i prezzi vedete le caratteristiche mentre l'ultimo che chromebook che vi volevo segnalare è il chromebook 300 e che è un chromebook touch quindi ha lo schermo che si piega 360 e lo posso utilizzare chiaramente sia con il dito che con dei pennini specifici e questi magari possono essere interessanti per ragazzi o che hanno delle difficoltà o che o ad esempio se avete esigenti di utilizzare jamboard come ha citato prima hanno citato prima debora e melissa con il pennino e quindi nel mio dispositivo lo utilizzo anche per disegnare fondamentalmente come se avessi una tavoletta grafica io penso che da mia parte lisa sia stata non voglio aggiungere altro quindi vi lascio vi lascio solamente queste queste slide e anzi sono aperto a tutte le domande insomma che che vorrete farmi a mi è piaciuta sicuramente la tua citazione della sirenetta e non c'è dubbio rispetto a questo quindi no grazie invece per aver noi non lo non lo facciamo mai notare però è questo forse l'aspetto più importante in questo momento al di là del ragd che prima come giustamente dicevano la prima presentazione ovviamente è utile in contesto scolastico non solo quando si ha a che fare con i piccoli ma anzi perché comunque richiedere una certa resistenza indipendentemente dal dispositivo insomma può essere fondamentale in contesto scolastico ma di questi tempi anche soprattutto se presti le risorse è bene poterle sanificare bene poterle igienizzare nel passaggio da uno studente all'altro avere quindi un dispositivo che permette di diciamo sia un po resistente ai liquidi permette di poter fare questa cosa con una certa leggerezza e non doversi preoccupare del di quello che accadrà insomma anche se magari il personale non è stato avvisato e così via quindi di prolungare la durata dei dispositivi per chi lo chiede che dice allora i dispositivi mostrati da matteo alcuni sono in pronta consegna altri in arrivo in tempi brevissimi comunque in generale abbiamo una pagina aggiornata sempre sul sito con i dispositivi disponibili tra l'altro vengono anche condivisi nel gruppo facebook dedicato iphone proprio che è un gruppo molto attivo su facebook ai finanziamenti e aggiornati periodicamente perché ovviamente è un anno anomalo quindi è un anno che ha portato sì tanti chromebook tanti altri dispositivi nelle scuole e ovviamente questo ha un pochino cambiato gli equilibri per cui vi consiglio ecco questo da parte mia visto che stiamo parlando di dispositivi di verificare sempre se vi interessa un particolare dispositivo che tempistiche di arrivo ha insomma se è disponibile e puntare più su quelli disponibili tanti tanto ce ne sono migliaia di disponibili ecco matteo voglio sentire un tuo parere conoscevi social emotional learning tu che sei uomo tech o no e cosa cosa ti è rimasto più impresso dell'incontro di oggi oh grazie lisa che mi fai sempre queste domande così un po' traccobetto per citare i gunnis allora sicuramente l'ho sentito diciamo come come acronimo quello che mi è rimasto cos'è è quello che è il non l'importanza del contatto umano e l'importanza del di quello che ci siamo persi durante il lockdown abbiamo rimediato in qualche maniera con appunto con l'utilizzo di tante piattaforme con l'utilizzo di di strumenti per la maggior parte la g suite per education soprattutto però mi è piaciuto come la parte digitale voglia sempre tendere la mano alla cosa più importante che il contatto umano e che soprattutto per i più piccolini è fondamentale quindi sicuramente hanno perso una parte importantissima dello stare a scuola dello stare insieme però vedo che c'è stata una reazione dei docenti e delle scuole che debora e melissa ce l'hanno fatto vedere dell'utilizzo del digitale per diciamo toccare la mano attraverso mit o attraverso la g suite ecco quindi poi c'è sempre da migliorare c'è sempre da imparare quindi diciamo che il nostro contributo è stato durante questo questo momento è stato volto a questo ad aiutare a toccare i ragazzi quindi quello che mi rimane rimane sempre l'aspetto umano fondamentale ecco e mi piace come come è stato affrontato da dalle nostre idee due fantastiche formatrici si sono state proprio brave infatti le vorrei salutare prima di salutare tutti voi e perché ce lo chiede l'evento google del 18 è assolutamente libero potete partecipare tutti nella mail di riepilogo che vi mandiamo sempre alla fine del webinar vi inseriamo proprio il link quindi cliccate su cioè leggete la mail cliccate su quel link e da lì è tutta in discesa ed è tutta gratuita e quindi prima di salutarle che chiedo a debora melissa parteciperete a questo grande evento cosa vi aspettate assolutamente sì e ricordo a tutti che l'evento anche del 18 sarà disponibile anche in italiano per cui non vi preoccupate se viene organizzato dalla casa madre sarà seguibile da tutti e condivisibile anche se volete con colleghi parenti amici figli insomma un grande evento e spero e speriamo di vedervi in tanti debora melissa grazie mille è stato veramente interessante è stata se avete cambiato la giornata quasi mi dimentico che sta piovendo grazie a voi che emozionate provate in questo momento io mi sono emozionata melissa anche perché nel frattempo ci siamo scritte quindi ci siamo emozionate anche noi state molto brave grazie mille grazie di cuore grazie a tutti grazie a voi ciao ciao a presto ciao a tutti